Le notizie 60 secondi. Domani 14 settembre alle ore 17 all'olamania dell'Istituto Enrico Mattei ci sarà una riunione dove sarà illustrato il nuovo decreto con la modulistica e le disposizioni dal commissario straordinario Giovanni Legnini. La stagione turistica di Isca si chiuderà in negativo nonostante una ripresa nel mese di agosto e il primo bilancio del Presidente dei Confesercenti Francesco Pezzullo. Ha fatto visita all'Istituto Comprensivo Parco Verde Caivano il commissario straordinario designato Fabio Ciciliano in occasione dell'inaugurazione dell'anno scolastico. Questa sera ultimo appuntamento del Casa Michelin Festa dalle 21 alle 24 e domani 14 settembre riparte la seconda edizione del Contest Un Pizzaiolo per Procida. Prossimo appuntamento stasera alle 20.